È l'associazione Caltanissetta Sicura che manifesterà con un sit-in il 18 febbraio prossimo alle 10.30 in Corso Umberto di fronte al Palazzo del Carmine. I rappresentanti dell'associazione Sergio Cirlinci, Rita Capraro e Adriana Marotta spiegano il perché dell'iniziativa. Dicono, riteniamo che sia giunto il momento di lanciare un segnale forte sul tema della sanità locale e nazionale alla luce anche del via libera del Consiglio dei Ministri e al disegno di legge sull'autonomia differenziata che andrebbe a colpire la sanità delle regioni come la nostra, che già oggi è qualitativamente inferiore rispetto alle regioni più ricche. Bisogna dare un segnale che non può nascere da singole realtà associativa ma che necessita di uno sforzo comune, un sit-in che porti come uniche bandiere il diritto alla cura e alla difesa della dignità della persona che ci veda tutti uniti come un unico grande corpo che vuole riconosciuti i propri diritti costituzionali. I rappresentanti hanno poi rivolto l'invito a partecipare sia i cittadini che i rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose della città.